La Settimana della Cultura di Gabicce Mare è tutta incentrata sul Festival degli Sguardi per dare una visione di tutte le sfaccettature della cultura. Tutto il territorio sarà presente, partecipe attraverso gli enti, le associazioni, i gruppi culturali per dare al pubblico che sarà presente alle scuole e ai turisti un momento di visione diverso del nostro territorio. Ricordo la partecipazione di tanti artisti perché allestiremo una mostra itinerante su tutta la città negli alberghi, nei negozi, nelle vetrine del centro e delle periferie. Avremo dei personaggi di livello di caratura internazionale sia dai fotografi, filosofi, esperti in comunicazione, giornalisti che affronteranno lo sguardo nel mondo della comunicazione, della filosofia per parlare anche degli sguardi inquietanti che riguardano il nostro futuro attraverso l'intelligenza artificiale. All'interno di questo programma ben strutturato poi c'è questa nostra realtà immersiva in questa gabice Maremonte Experience dove andremo a creare all'interno del Mississippi questo spazio con una tecnologia multimediale che ci permetterà di guardare all'interno di questo spazio tutto quello che c'è intorno a noi, quindi dal mare al monte, alla collina, tutta la bellezza del nostro territorio che verrà risaltata dagli effetti multimediali e ringrazio naturalmente a Sound Delight che oltre a essere sponsor è il nostro supporto tecnico che ci curerà questa importante installazione. La domenica, che è il giorno proprio della chiusura, un concerto in piazza Municipio dedicato a quello che sarà lo sguardo sulla disco music realizzato di Noniasi Corporation con l'artista Joyce Joule che andranno quindi a rivolgere anche in questo caso uno sguardo alla disco music al nostro festival principale disco diva. La domenica, la sabato sera, invece in piazza sempre Municipio il live di Cricca, un giovanissimo artista in rappresentanza anche del nostro territorio perché viene dalla vicina Rezzone, anche se è un artista ormai di fama nazionale e internazionale che ci delizierà anticipato da un DJ set con la sua voce la nostra sabato sera di festeggiamenti di questa settimana.